Giuseppe Bono si appresta a iniziare il suo terzo mandato da sindaco, i brovellesi le hanno rinnovato la loro fiducia, un commento quindi su questo voto? Abbiamo vinto sul filo di lana, però nei comuni piccolini è chiaro che il divario è sempre molto ristretto. Comunque l'importante era quello della vittoria e di conseguenza abbiamo vinto ben per noi. Quali sono le prime cose che farà in questi giorni? Ci sarà un consiglio comunale in giro di una decina di giorni dove nomineremo, la giunta è chiaro era già stabilita prima in caso di vittoria, ci sarà solo la scelta del vice sindaco, faremo le varie commissioni. Se lei intende a livello di lavori pubblici dobbiamo vedere chiaramente come sono le casse del comune perché non ne conosco. Se abbiamo disponibilità finanziaria il primo lavoro che noi avevamo in mente è quello del campo giochi, come ho detto l'altra volta, il campo giochi per dotare la frazione di Brovello di un bar che per noi è un servizio alla popolazione. Poi abbiamo tutto un discorso che seguirà l'assessore dell'orto che è quello dell'assistenza con le persone anziane e sicuramente nel progetto consenso che è l'infermiera familiare.